Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla Fipili dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo sulla 1 dove si ricorda che a causa di lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con possibili disagi alla circolazione in direzione Bologna. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla statale Trebis Tiberina dove a causa di lavori sono chiusi gli svincoli di Balsavignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. Viabilità della città di Firenze a causa di un incidente avvenuto in via Senese all'altezza del Civico 97, restringimento di carreggiate e traffico rallentato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!